oh ti tagliamo le gambine eh se non ti fermi adesso si non è qua che arriva eh toglie questo non guarda eh lo cazzo metti dentro un legno nella ruota cazzo adesso prossima volta portiamo una catena che così oh prossima volta una catena con lucchetto quando facciamo la zona gliela leghiamo quando abbiamo finito che la fa lui gliela sleghiamo prossima volta vedi la porto eh porto una catenella te la leggo quando abbiamo finito dopo che la fai tu vai perché sennò spampi ti da un pugno come minimo è violento dici ma va perché di prendere il sasso lì sulla sinistra che ti dà la mano bravo bravo ah no eh oh cazzo quando parti tocchi il davanti sempre bagnato asciutto cosa fai il saltino che non impara a contenere la propria rabbia non diventerà mai un guerriero dragone è un filosofo è diventato anche un filosofo un fisologo un fisologo è un po' più tecnica parte il coso ferma zitto 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 pronto pronto tanto il vito non ce la fa stamattina vai tanto non ce la fai stamattina c'è anche la freccia via amore il tronco vai 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 faccia via fui io chiamo faccia faccia non capisce che fa le zone fai faccia hai fatto conazione dolce stamattina per essere vielato così figaro vai su senza spostare niente dai finiscila è il tuo turno bravo il saltino Matteo oh non l'aiuti sta cazzo di scorpa guarda c'è sul davanti dai oh e che cavolo va bene ma cazzo ma fallo se l'aiuti non ti scappa via va niente lui è un po' ma io non so come fa recuperare così ma come cazzo fa recuperare così bravo via 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 non ti fermare non ti fermare così si peccato che l'hai allargata di 6 metri non ti r Grazie.